Tutti bocciati, stiamo parlando dei sei progetti di porto turistico presentati all'autorità portuale di Marina di Carrara da vari soggetti, primo fra tutti il gruppo Acquamarcia di Caltagirone. La decisione è stata presa dalla conferenza dei servizi, tutti gli enti locali presenti dalla regione toscana al comune infatti hanno dato parere negativo in quanto i progetti presentati ai sensi della legge Burlando non erano compatibili con la pianificazione urbanistica della zona. Il nuovo piano regolatore portuale sarà presentato a giorni e sarà quella la base su cui disegnare il nuovo scalo turistico. Con ogni probabilità alcuni dei soggetti presenteranno ricorso ma le possibilità di successo sarebbero scarse infatti il parere negativo della vocatura regionale, provinciale e comunale è stato unanime. Stessa bocciatura è toccata al progetto Michelangelo, l'idea di Porticciolo da realizzarsi all'esterno della diga foranea del porto commerciale. Il porto che verrà fatto attraverso la pianificazione, l'accordo di pianificazione che è partito tra gli enti territoriali va avanti, tant'è che poco prima di Natale presenteremo la prima fase progettuale, mentre invece si ferma, secondo quanto stabilito oggi nella conferenza dei servizi, la procedura del decreto burlando che è altra cosa che è nata su iniziativa di alcuni privati o meglio di uno a cui si sono sommati gli altri più un secondo che si è aggiunto dopo e evidentemente si è valutato e si è notato che questa procedura in Toscana non ha possibilità di essere realizzata nella fattispecie in esempio. Credo anche che sia una cosa non negativa in quanto sia meglio che il porto venga fatto prima facendo le regole basate sull'interesse pubblico e poi dopo coinvolgendo i privati per realizzare e non viceversa.